www.scabec.info 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 Dal 1983 riaprirà la casa del bicentenario e poi a seguire il 24 di ottobre inaugureremo la mostra sui legni e sull'ebanistica, questa volta alla reggia di Portici. In questa maniera useremo i nostri materiali come una sorta di briciole di pollicino per accompagnare i visitatori a scoprire tutti i valori culturali che sono connessi a questo straordinario sito e che da questo straordinario sito sono scaturiti sul territorio. Sarebbe riduttivo dire che gli scavi sono importantissimi per il futuro della nostra città perché sono un attrattore turistico straordinario, ma quello che mi inorgoglisce non è soltanto quanta gente viene agli scavi, ma tenerli aperti di notte significa creare intorno agli scavi un indotto sociale, un indotto culturale. Per me non è importante solo accogliere un milione, un milione e mezzo di turisti l'anno, per me è importante che i nostri giovani, soprattutto i giovani più semplici, i giovani che vivono nel disagio, si rendano conto, acquisiscano consapevolezza che intorno al turismo, intorno alla cultura si può creare un futuro importante. Gli scavi aperti di notte significa riuscire a creare quello che abbiamo sempre sperato, ovvero intorno al turismo un indotto economico, un indotto culturale e un indotto sociale. Ercolano sta crescendo, sta crescendo, ci sono B&B ovunque. Lì dove prima c'era la malavita organizzata, lì dove prima c'erano le roccaforti dei clan, adesso ci sono gli insegni dei bed and breakfast. Lì dove prima c'erano le sentinelle dei clan, adesso ci sono tanti turisti che passeggiano. Questa è la mia Ercolano e credo che il nostro futuro sarà sempre più rosso grazie al turismo, alla cultura e anche grazie agli scavi. Quest'anno ancora una volta Scabec punta per Ercolano e per altri siti importanti della regione a una valorizzazione notturna, ad una fruizione diversa, originale rispetto a quella tradizionale. Quest'anno abbiamo voluto, accanto alle visite guidate notturne, nelle luci e con i suoni evocativi, dare anche la possibilità di assistere a spettacoli. Sono impegnati gli artisti tableau vivant che faranno vivere un'emozione aggiuntiva ai cittadini e ai turisti che visiteranno gli scavi, visiteranno il parco archeologico in questi venerdì notturni.